Caro figliolo, oggi ho concepito un nuovo metodo per comunicare Ed è il linguaggio che ti sto insegnando e che i tuoi figli anche tu potrai insegnare Papà, papà, lo sai che Giovanna usa soltanto i gesti e i movimenti E che se proprio deve farsi capire lo fa senza impiegare le parole Papà, papà, parapapapà, papà, 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 paraparapà Papà, 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 paraparapà Papà, 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 paraparapà Caro figliolo, oggi ho rintracciato un luogo molto, molto ospitale Questa è una grotta ampia ed accogliente che ci farà accampare ottimamente Papà, papà, lo sai che Giovanna vuole restare sempre sopra gli alberi Non vuole vivere dentro ad un faro perché il suo ramo ormai mi è troppo caro Papà, papà, parapapapà, papà, papà, paraparapà Papà, 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 paraparapà Papà, papà, paparapà Caro figliolo, oggi ho escogitato un espediente per procurarci il fuoco E soprattutto per conservarlo bene e per far sì che non si spenga dopo Papà, 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 lo sai che Giovanna vorrebbe fare a meno del tuo fuoco Dice che lui mangia solo carne cruda e poi non vuole cambiare neanche un poco Papà, 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 paraparapà Caro figliolo, oggi ho fabbricato uno strumento molto raffinato Questa è una pietra che se scheggia saprai Molto più aguzza e forte ti verrà Papà, papà, lo sai che Giovanna dice che non si deve alterare Quello che la natura sta dito per non destare uno spirito stizzito Papà, 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 papà Papà, 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 papà 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 Il canta storia